Musica Bentornati, Piazza Politica anche quest'oggi per trattare argomenti di pubblica utilità. Ritorneremo a parlare di urbanistica, ritorneremo a parlare del nostro amato territorio, un territorio assolutamente da riscoprire, da valorizzare. E mi avvalgo quest'oggi dell'esperienza, della capacità professionale straordinaria di due architetti. E ora ne capirete le ragioni. Alla mia destra è l'architetto Sante Cutecchia, scrittore e fotografo. Alla mia sinistra l'architetto Massimo Di Cecca. Allora voglio ricordare un appuntamento che si terrà mercoledì 1 giugno in Via Bari 181, con la co-working, si pronuncia così architetto? Esattamente. La presentazione del libro La Città di Mezzo è anche una mostra molto importante, assolutamente da visitare, da visionare. Subito la parola a Sante Cutecchia e l'autore del libro La Città di Mezzo. Allora, Sante, ci ritroviamo il piacere di ospitarti e soprattutto di dialogare con te su tematiche importantissime che secondo me dovrebbero avere più valore, tra virgolette, nel nostro territorio, nella nostra città, per i nostri cittadini e perché no anche per le istituzioni. Allora, buonasera, intanto ti ringrazio per avermi invitato di nuovo in trasmissione. Parlare di patrimonio culturale, architettonico e storico penso sia fondamentale oggi. È fondamentale perché è quello che ci resta. Sotto molti punti di vista la nostra cultura è un po' minata da tante cose e abbiamo bisogno comunque di salvare il salvabile. Il caso di Altamura è un caso, diciamo, abbastanza complicato, un'emergenza che va affrontata subito. Sperando non sia un caso disperato. Non lo so, giudicate voi, però c'è una città, una bella porzione, una grossa porzione di città che sta scomparendo e che rappresenta un po' quella che è una delle componenti della nostra identità, cioè la nostra cultura contadina, perché noi proveniamo da una cultura contadina. Con questo non voglio dire che dobbiamo legarci al passato e avere un'unica identità a cui legarci, ma è uno degli elementi che poi compone quella che dovrebbe essere la nostra identità che si evolve in base alle nostre esperienze. Ma per mandare la cultura contadina significa arricchire anche il nostro patrimonio? Certo, significa arricchire il nostro patrimonio, ma arricchirci anche di conoscenza, perché con la scomparsa della cultura contadina scompare non solo l'architettura, che è un po' rappresentato questa città, ma scompaiono una serie di saperi, cioè l'ultimo simbolo di una serie di saperi, per esempio di mestieri che stanno anche scomparendo, come quello del muratore, del falegname, o tutte quelle cose che i nostri nonni forse non hanno saputo tramandarci fino in fondo. Per esempio il saper riconoscere le erbe aromatiche della Murgia, il saper costruirsi una casa, perché nella maggior parte dei casi l'altamurano si autocostruiva l'abitazione oppure ricorreva al mastro che lo sapeva fare, sapeva costruire una volta, una volta a botte, a sterna, a vera. Quindi salvare questa architettura è anche un po' recuperare tutto questo patrimonio culturale che si sta perdendo. Anche il fatto dei racconti orali che i nostri nonni ci hanno insegnato, ci hanno tramandato, oggi forse si stanno un po' perdendo. Quali genitori oggi raccontano delle favole ai bambini? E non raccontando delle favole ai bambini si sta anche perdendo un po' quello che è l'esercizio alla fantasia e quindi alla creatività. Oggi si va con il computer, con l'iPhone, con il telefonino, le favole le leggono, le apprendono. Comunque sono degli strumenti necessari per la divulgazione, per la conoscenza, ma non bisogna voltare le spalle... Il contatto umano, è ovvio. L'arricchimento proprio, sì, sì. A quello che era il tramandare via oralmente quella che è la nostra cultura, attraverso le favole, i racconti, sulla storia, anche sulle leggende della nostra città. Ecco, coinvolgo l'altro ospite, l'architetto Massimo Di Cecca. Chi è Massimo Di Cecca, professionalmente parlando? Un umilissimo architetto che tiene particolarmente a cuore gli argomenti, le battaglie, se così possiamo dire, di Sante e Cutecchia e che insieme al co-working... Ce ne vorrebbero tanti di Di Cecca e Cutecchia in questa città. Di Cutecchia sicuramente, di Cecca non lo so. È già l'iniziativa, lascia presupporre un amore verso certe tematiche, verso la propria città, anche se tu sei stato parecchi anni fuori a studiare, giusto, e a lavorare. Le cose sono andate veramente così. Appena sono tornato ho saputo del lavoro interessantissimo di Sante. Perché ti sei fatto coinvolgere. Assolutamente. E quindi gli ho subito proposto di mettere in mostra le foto, perché insomma, oltre a parlare di patrimonio, di condivisioni, di saperi, eccetera, eccetera, sono innanzitutto belle foto. Quindi noi ci teniamo a mostrarle. Anzi, invitiamo tutti quanti a vedere questa bella mostra di Sante. Massimo, come hai trovato dopo 13 anni la nostra città, soprattutto il nostro territorio urbanisticamente parlando? È una domanda, insomma, scomodissima. Non l'ho trovata bene. Sicuramente c'è tanto da fare, tanto da recuperare. Discorsi, diciamo, serie, scientifici da mettere in campo sul territorio di Altamura. Ma oltre che, diciamo, scientifici che riguardano la bellezza. Sicuramente il lavoro di Sante è un punto di partenza per riscoprire certe cose belle di Altamura che abbiamo disimparato ad osservare. Ecco, in base alla tua esperienza accumulata professionalmente parlando, cosa servirebbe a questo territorio per ritornare ad essere un territorio vivo, a respirare? Serve sicuramente una visione strategica di tutto, a diverse scale. Ciò che manca alla politica. Da anni. Sì, questo. Io ritengo, sì. Sorride, Sante, perché conosce perfettamente il problema del nostro territorio, della nostra città e di certi valori assolutamente da preservare. Non bisogna essere mio, bisogna avere sempre la prospettiva giusta per guardare oltre le contingenze, sicuramente al territorio Ottamulano serve questo. Ecco, Sante, mi ha incuriosito una foto, anzi, sono 4-5 foto a seguire della copertina del tuo libro La città di Mezzo. Sembra un momento di distruzione, un quasi dopo bombardamento, qualcosa che lascia presupporre una tragedia reale, realisticamente, urbanisticamente parlando, stando alle macerie, raffigurate, giusto? Sì, alla fine ho scelto... Ecco, ce la spieghi? Questa sequenza di foto? Prima di decidere che fotografie mettere sulla copertina, insomma, ci ho messo tanto, perché è difficile poi in uno scatto, in un po' più scatti. Di solito si inseriscono i colori più belli, più vivi, più vivaci, che attirano l'attenzione, ma qui prevale il grigio. Sì, prevale il grigio perché poi alla fine il libro, non dico che vuole essere una denuncia, ma è un modo per portare all'attenzione della comunità la cancellazione di una parte della nostra identità e per esprimere al meglio questo ho deciso di inserire una sequenza della distruzione di una casa contadina, che è quasi una sequenza cinematografica, ma alla fine è un momento che è importante per me, cioè la cancellazione appunto di architetture che hanno rappresentato la nostra identità, anche i miei nonni. Ecco, tu hai una caratteristica molto particolare, poi ti lega, ovvio, alla fotografia, arricchisci moltissimo il tuo scritto con foto, foto particolarissime che raccontano la storia contadina, anche la storia urbanistica contadina, che va scomparendo. Però mi ha incuriosito un momento particolare del tuo libro, è una foto che raffigura e rappresenta due mani probabilmente, anzi sicuramente, di un contadino di lungo corso, due mani che raccontano, io ritengo anche anni e anni, se non addirittura, secoli di storia del nostro territorio, della nostra città, della nostra cultura, e soprattutto dei nostri sentimenti, quelli che sono sempre stati i più usati, i più utilizzati, e quelli anche più tramandati, giusto? Sì, è una foto che anticipa tutte le altre, sulle case contadine, sui dettagli di alcune case contadine, ed è una foto che ho scattato a un signore anziano. E non a caso anche un ramo di ulivo? Ecco, lui era davanti alla chiesa. Che è la pianta tipica, della durezza di un territorio. La pianta di ulivo perché anche le sue mani un po' ricordano vagamente la forma dei nostri ulivi, e rappresentano anche un po' quanto lavoro queste persone abbiano fatto per poi tramandare anche il benessere a noi. E noi, diciamo, è come se secondo me stiamo un po' voltando le spalle a queste persone. Quindi ho voluto un po' diciamo portare all'attenzione anche questo dettaglio che un po' rappresenta queste persone umili e che tanto hanno fatto per il nostro benessere. Quanto è importante la fotografia nel contesto del libro? Credo per il 90% Eh sì, la fotografia è importante anche perché come scritto c'è solo una mia premessa, una presentazione e poi c'è un saggio del professor Ferdinando Mirizzi dell'Università di Basilicata che spiega molto bene come nascono i rioni contadini e si sviluppano fino ad arrivare a oggi. Ecco, come nascono. Sì, il mio lavoro è più fotografico ed è un tentativo tramite il filtro della fotocamera di portare all'attenzione della gente un aspetto della nostra città che non vediamo più. Quindi per cercare di portarlo all'attenzione. Ecco, Sante, il rione contadino di solito viene ubicato, costruito, nasce e viene localizzato intorno alle mura cioè dopo le stramurali al di là delle stramurali in quelle aree che erano adiacenti al centro storico, giusto? Sì, i rioni contadini nascono intorno alla città. E aveva anche una simbologia particolare il contadino che riesce ad affermarsi che riesce comunque ad avere la possibilità di costruirsi una casa, giusto? Certo. Con tutti gli accorgimenti tecnici urbanistici. Anche, i rioni contadini nascono con delle maglie ortogonali quindi c'è una sorta di piano urbanistico forse il primo ad Altamura che li dispone a maglie ortogonali intorno alla città vecchia quindi stanno intorno al nostro cosiddetto centro storico Oltre le stramurali, giusto? Sì, oltre le mura medievali ed è per questo che non vengono viste come, tra virgolette, centro storico perché stanno fuori le mura ed è anche per questo che non sono vincolate noi non dovremmo aspettare il vincolo Ma anche perché sono costruzioni più recenti? Vanno dagli anni 50 in poi? Sì, siamo tra... No, 1850 Sì, 1850 in poi Unità d'Italia Sì, subito dopo Fino agli anni 30-40 del novecento Poi si è perso invece questo modo di auto costruirsi a volte la propria casa per la propria famiglia e per i propri parenti C'era la tradizione di ospitare magari un intero nucleo familiare allargato agli zii ai nonni ai nipoti Giusto? Sì Poteva capitare che in molti casi i contadini si autocostruivano anche la baracca per gli animali o il deposito però sono case costruite con un saper fare a regola d'arte Per esempio Raccolta delle acque Sono murature in tufo quindi con una certa inerzia termica un'inerzia termica un tetto in legno e coppi in terracotta e avevano quasi sempre una cisterna per la raccolta delle acque come un po' mi anticipavi Avevano al piano semi interrato la stalla o il deposito per gli animali al piano rialzato c'era la zona notte e zona giorno quindi l'abitazione vera e propria e il sottotetto era dedicato al deposito della paglia e serviva anche a isolare termicamente la casa dall'esterno Quindi spesso si ospitavano anche gli animali nei piani bassi? Sì la casa contadina nasce proprio come un elemento per abitare ma un elemento della piccola azienda agricola che si veniva a costituire quindi era fondamentale per il deposito delle merci che simbolo di un benessere raggiunto autosufficiente Sì parlare di benessere forse per quei tempi ovviamente Sì forse per quei tempi è un po' eccessivo anche se diciamo c'era un certo grado di qualità della vita avevano comunque un riparo cosa che ancora oggi molte persone in molte città del Mediterraneo non hanno ancora Sì quindi c'era alla fine c'era comunque una certa qualità della vita se consideriamo gli standard dell'epoca Certo il bello di queste case è il fatto che sono costruite proprio materialmente A regola d'arte Sì Come suol dirsi tecnicamente Principi di necessità cioè quello che serviva quello si costruiva non c'erano orpelli o cose che adesso vediamo molto spesso Perché architetto stanno scomparendo solo per recuperare i suoli su cui puoi edificare 3, 4, 5 piani Quello sicuramente stanno scomparendo perché la gente ignora il valore di queste case Ma anche perché si perde l'unione della famiglia ormai ognuno va per conto proprio Ci sono anche sicuramente motivazioni sociali antropologiche dietro però l'importanza anche di queste case è che loro hanno dato anche la forma urbis di Altamura il fatto che Altamura sia rimasta compatta fino a un certo punto della sua storia urbanistica lo dobbiamo anche specialmente a queste case qua il contadino tornava dalla campagna e quindi viveva in città a differenza di molti altri contesti dove il contadino rimaneva in campagna perché le campagne erano relativamente sicure noi dobbiamo la qualità del nostro edificato per alcune parti proprio a questi rioni contadini Ecco e poi vi erano anche i braccianti e i braccianti avevano anche la possibilità di usufruire di uno spazio simile e di un'abitazione decente come questa fatta in tutti i criteri diciamo in gran parte queste abitazioni erano di piccoli proprietari quindi comunque quasi tutti gli abitanti di queste case avevano un appezzamento di terreno fuori dalla città quindi stiamo parlando di piccoli proprietari che potremmo definire contadini non per niente poi la diciamo l'unità abitativa nasce come diceva appunto Massimo estremamente calibrata sulle funzioni a cui doveva assolvere cioè deposito stalla e abitazione oggi esistono ancora quali i rioni ancora più ricchi di queste entità edilizie straordinarie o stanno scomparendo sì no ad Altamura ci sono dei quartieri che sono quasi diciamo intatti almeno sui fronti principali via Manzoni siamo su via Manzoni si possono vedere alcuni su via Le Martiri su via dei Mille su via Santeramo però bisogna iniziare a capire come individuarli perché spesso ci passiamo davanti e non li riconosciamo quindi l'operazione del libro è un po' questa come dire rompere quasi l'abitudine del camminare anzi prima di tutto il camminare e non andare in macchina camminare a piedi in bici e poi quando si cammina non fare sempre gli stessi percorsi quindi cambiare percorso iniziare a guardare oltre i tre metri ma quasi sempre non si ha il tempo di guardare soprattutto di osservare non si ha il tempo per noi stessi appunto ecco e perché preservare ancora queste costruzioni qual è oggi il ruolo all'interno del contesto urbanistico della nostra rete viaria Sante allora intanto sostituendo queste case unifamiliari con un edificio a più piani come dicevi tu significa intanto congestionare il centro cioè se adesso in un quartiere abbiamo dieci macchine con delle strade tra l'altro molto strette che non superano i sei metri costruendo un edificio a più piani avremmo lì non più una cinque famiglie ma ne avremmo venti trenta e sappiamo bene che nella nostra città il problema del traffico è uno dei problemi principali soprattutto dell'aria irrespirabile ecco io ritengo la dote più privilegiata di un tecnico del settore urbanistico come un architetto per esempio sta proprio nel saper guardare approfondire scoprire e anche valutare perché no spiegare i dettagli i dettagli per esempio vi sono delle foto straordinarie che raccontano momenti bellissimi della storia urbanistica della nostra tradizione contadina giusto? i colori per esempio le arcate le nicchie con i relativi santi e le relative madonnine vero architetto? appunto l'artigianalità con cui erano realizzate queste case specialmente non c'era ornamento tranne alcuni particolari che erano molto identificativi ma erano ornamenti curati nei particolari volutamente giusto? perché avevano una simbologia un significato per la famiglia sì sono dei manufatti molto semplici cioè fatti in modo molto semplice sintetici ma comunque che hanno una proporzione un'armonia ecco sante di caratteristico per esempio di cose che non troviamo in altri comuni in altre città parlo sempre del territorio della Murgia della provincia di Bari e della relativa Puglia cosa dovremmo assolutamente preservare di questa grandissima straordinaria voglia di recuperare la tradizione urbanistica contadina? Beh già la casa in sé è un tipo di casa che troviamo solo ad Altamura cioè nelle altre città non troviamo quella tipologia di casa sono diverse sono strutturate diversamente perché la nostra città si era sviluppata in quel modo o aveva un ruolo importantissimo il contadino all'interno della società perché il 90% della popolazione era fatta di contadini ed erano loro che poi hanno dato il volto alla città questo ha portato ovviamente un beneficio economico alla crescita della città proprio perché avevamo questa tradizione e di questo non se ne parla spesso spesso si parla delle grandi famiglie delle famiglie nobili che è bene anche parlarne però Altamura è stata fatta dai contadini erano il 90% della popolazione e se oggi noi siamo in una città che dal punto di vista economico comunque naviga in acque ancora buone è dovuto a tutto quel lavoro che è stato fatto in passato ecco architetto possiamo definire l'attività urbanistica contadina anche un valore aggiunto del patrimonio culturale sicuramente sì ma perché no anche artistico sì assolutamente sì una cosa che ci terei però a sottolineare è che questo tipo di lavoro non è un lavoro diciamo reazionario passatista che si lega a tradizioni perché è bello legarsi alla tradizione per carità queste tipologie queste case rappresentano delle tipologie trasformabili con un alto grado di trasformabilità per renderle contemporanee quindi si possono recuperare anche adeguarle ai nostri tempi con vari gradi di libertà tra l'altro le case le case stesse le case contadine erano progettate come delle progettate pensate dal mastro che le costruiva come delle scatole che tra loro si potevano unire o separare infatti in parecchi casi lo vediamo in alcune foto ci sono degli archi ciechi ma non perché sono stati murati perché la casa è abbandonata quelle erano predisposizioni per altre aperture o per fusioni con altri edifici quindi già si pensava alla fusione magari la famiglia si allargava c'erano altre esigenze quindi erano come dei moduli affiancati cosa che ancora oggi nell'architettura si fa e noi ce ne siamo dimenticati diciamo di tutto questo saper costruire e anche pensare al domani oggi noi costruiamo pensando all'oggi e andando sul prezzo più basso ecco io con materiali scadenti stavo pensando a ipotetici finanziamenti come quelli che di solito usufruiscono gli abitanti del centro storico di qualsiasi centro storico della provincia di Bari o della regione Puglia perché non pensare anche a ipotetici finanziamenti per recuperare o ristrutturare questa tipologia di edilizia popolare contadina non sarebbe male certo allora i finanziamenti ben vengano però prima di pensare ai finanziamenti bisogna pensare al saper fare cioè al mestiere al saper recuperare che passa per lo studio infatti quando non c'è la conoscenza come diceva Massimo bisogna passare prima per lo studio bisogna conoscere e poi iniziare a mettere mani su un patrimonio culturale architettonico e storico pensare solo al finanziamento significa far danni e quindi perdere comunque quel patrimonio quindi bisogna a monte prima conoscere e poi magari trovare le risorse per poter recuperare avendo la conoscenza architetto il primo intervento che bisognerebbe assolutamente perpretare consumare fare girare per la realtà edilizia contadina ma sicuramente cominciare non so in che maniera ma a tutelarle cioè a bloccare questo processo inarrestabile di cancellazione nel rilascio delle concessioni edilizie nella batterle le case no vabbè io non so neanche se è una strada buona perché ripeto c'è bisogno della cultura cioè bisogna comunque informare la gente e una volta informata la gente si può iniziare a pensare di recuperare questo patrimonio imporre dall'alto può servire però se unito ad altre azioni però imporre solo per imporre per vietare dovrebbe entrare in ballo la sensibilità del mondo istituzionale ovviamente perché chi più dell'istituzione potrebbe o può intervenire a tutela giusto? e le istituzioni non vedo altre forme certo e le istituzioni poiché non possono sapere tutto di tutti devono quando possono avvalersi di persone che hanno studiato che conoscono lo diceva l'altro giorno ad un incontro sull'architettura di smessa dei murini il professor Mirizzi lì rivolgendosi all'amministrazione diceva proprio questo cioè che le istituzioni possono hanno questa fortuna di potersi avvalere di persone che conoscono per non sbagliare per non sbagliare ecco abbiamo meno di un minuto ma io ne vorrei spendere almeno tre perché voglio affrontare sante un altro argomento e so che ti sta particolarmente a cuore come sicuramente sta a cuore anche all'architetto comunque qui accanto a me di Cecca un argomento importante che l'abbia ritrovata l'abbia antica che è un'arteria fondamentale su cui poi sono state scoperte tantissime aree archeologiche da Picciulo a Iesce la necropoli di Iesce la cripta poi ancora la stessa via appia antica i tratturi sono grandissime straordinarie potenzialità che potremmo e dovremmo assolutamente potenziare utilizzare usufruire e valorizzare per il turismo con tutti i criteri ovviamente stiamo parlando di un altro bel pezzo della nostra identità del nostro patrimonio culturale che è l'appia antica e con l'appia antica tutti i tratturi e tratturelli del nostro territorio perché l'appia era collegata con tutta una serie di strade antiche che poi si diramavano verso diverse direzioni sì l'appia antica è stato un altro diciamo un altro patrimonio al quale mi sono interessato ho pubblicato un altro libro nel 2013 sempre con la premessa del professor Ferdinand prima di Matera Capitale Europea in tempi non sospetti adesso c'è quasi una forzatura a voler fare rete e usufruire della potenzialità della via appia per il tour turistico ma tu ovviamente lo avevi già gridato molto tempo prima ma no sottovoce insomma voglio dire adesso però e adesso i fatti ti danno clamorosamente ragione vuol dire che ci hai visto bene no ti dicevo sottovoce perché poi non ho mai sbandierato ho cercato solo di portare la conoscenza di quel poco che io sapevo sull'appia ho iniziato il lavoro nel 2008 2009 con una serie di sopralluoghi dovuti al fatto che avevamo come studio di architettura l'incarico della redazione del piano comunale dei tratturi per Altamura e Acquaviva delle Fonti quindi di lì è iniziato con l'architetto Cucciola e l'architetto Farella quindi di lì è iniziato il mio interesse diciamo è cresciuto il mio interesse nei confronti della Pia Antica e quindi ho iniziato dei sopralluoghi e poi alla fine ho fatto un viaggio in Vespa e adesso è una necessità e adesso sì è diventato necessità forse io credo la carta migliore da giocare assolutamente e purtroppo devo dire nel nostro viaggio attraverso il territorio dei beni culturali turistici archeologici e religiosi abbiamo scoperto che vi è un profondo degrado nella necropoli sulla via Appia a Picciulo lo stesso a Iece lo stesso su via Santeramo la necropoli che ci porta a Casalsabini insomma una situazione vergognosa assolutamente da recuperare proprio perché dovremmo necessariamente puntare su queste potenzialità sono straordinarie potenzialità e dopo il tracollo del settore del salotto non ci resta che puntare proprio sul patrimonio che non ci manca questa è la vera tragedia giusta? certo diciamo poi il patrimonio culturale è anche un modo per alzare la nostra qualità della vita la via Appia è un percorso che si potrebbe attrezzare ma con interventi veramente minimi per andarci in bicicletta o a piedi si potrebbe andare addirittura da Spinazzola alla terza in bicicletta senza prendere una macchina allora abbiamo la necessità di fermarci qui e vuoi aggiungere qualcos'altro? no no? solo questi due temi della casa e della via Appia sono due temi condividi lo stesso Massimo lo stesso concetto di Sanitesi sono temi fondamentali e complementari uno dello stare e l'altro dell'andare dell'itineranza quindi vanno a bracetto allora ci dobbiamo necessariamente fermare ringraziamo i tecnici dall'altra parte del vetro i maghi della telecamera Nicola Segreto e Donatolo Russo Piazza Politica torna domani ancora immensamente grazie per la straordinaria professionalità capacità e amore verso il nostro territorio dimostrato quest'oggi o dimostrati quest'oggi dagli architetti qui presenti alla mia destra la Sante Cutecchia il suo ultimo lavoro librario e la città di Mezzo assolutamente si presenterà questo straordinario libro il primo giugno in via Bari 181 alla mia sinistra l'architetto Massimo Di Cecca Piazza Politica torna domani alla stessa ora non mancate era a a a a a e a a